ciao ragazzi benvenuti a un altro video del trappolone oggi recensiamo questo aggeggio qui che è un microfono stupendo prodotto da tierra audio e si chiama new 20s e come suggerisce il nome è un microfono pensato riprendendo in mano il design di un microfono a condensatore anni 20 che poi cercheremo bene di capire cosa significa però direi che prima di perderci in chiacchiere vi farei sentire nella vita reale quindi in una registrazione come suona questo microfono vai se ti incontro un giorno che non piove io ti sposo e non dire no che sono tre vite che non riposo ma ora è laggiù su quei campi sopra il mare blu un po' di poesia la notte è madita di nostalgia ti ricorderò per la dolcezza che mi hai donato poi non mi illuderò di avere indietro quel mio passato ma piove laggiù su quei campi sopra il mare blu il vento è poesia la notte è magica e sei tutta mia splendida bella come un tempo da far morire la realtà sembrerà un inganno con l'anima vedrai un mare in luce ti ricorderai che quel mare in luce non finisce mai se saprai ridere del tempo in questa vita se saprai ridere del tempo in questa vita se vorrai che quel mare in luce non finisce mai un mare in luce non finisce mai perché il mare in luce ti ha portato a vivere ok come avete sentito abbiamo fatto questa cover chitarra acustica e voce molto velocemente non avevamo tanto tempo quindi non siamo stati lì a cercare la performance della vita comunque era una cosa fatta in un paio d'ore quindi piazza tutte le luci piazza i microfoni fai qualche test però quello che mi interessava era appunto sentire come in un contesto live o comunque con un qualche altro musicista vicino in questo caso un chitarrista acustico suonasse questo microfono sulla voce e devo dire che l'ho trovato molto bello il termine giusto secondo me per definire questo microfono è cremoso perché comunque un microfono che sembra una via di mezzo perfetta tra un microfono a nastro e un microfono a condensatore quindi è un microfono a condensatore che ha molta diciamo potenza quindi prende un sacco di segnale lo prende bene è dettagliato però allo stesso tempo non è il solito clone o la solita brutta copia di un Heumann 87 ma è proprio un condensatore però ammorbidito agli estremi soprattutto sulle alte ha molta poca banda e quindi diciamo ha già quella scurezza che ci tiene lontani da quella abrasività da quella sibilanza poi vi lascio le tracce in free download flat in modo che potete sentire potete divertirvi anche voi a mixarla ma vi dico che su questa sessione che avete sentito alla fine ho caricato giusto un po di equalizzazione una leggera compressione non ricordo nemmeno se ho utilizzato il ds e poi una catena finale per poterlo finalizzare e poterlo inserire nel video che avete appena sentito ora mi sembra anche giusto farvi sentire qualche test e qualche paragone di questo microfono in flat con il microfono su cui sto parlando quindi un paragone giusto per sentire come prende come il suo pattern polare e com'è la sua risposta ok questo è il tierra audio new 20s completamente flat ho solo normalizzato l'audio e adesso lo stiamo sentendo senza il suo pop filter mettiamo il suo pop filter tierra audio new 20s con il pop filter audio completamente in flat normalizzato vediamo che la cosa che viene più all'orecchio è che se anche sfioro lo stand ha una forte captazione del rumore delle basse anche se sbatto il piede vicino allo stand sentite comunque prende un sacco di vibrazioni di rumbo dovute a rumori involontari proviamo ad attivare il filtro e passa alto sull'audient once you check molto meno vedete che gioco il filtro quindi in realtà è roba facilmente filtrabile anche in post ovviamente ora vi faccio sentire la prossimità quindi parlerò avvicinandomi allontanandomi prova prova 1 2 1 2 prova 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 1 2 adesso sono sulla audience di 44 a metà del volume e più o meno come segnale sono a circa meno 6 direi meno 5 quindi sono anche altino e vediamo quindi che il microfono ha una bella sensibilità adesso mi allontano un pochetto 1 2 prova 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 1 2 1 2 prova prova 1 2 1 2 prova sentiamo dietro che rigetto che ha giriamolo prova 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 1 2 1 2 prova 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 adesso siamo a 180 gradi 90 gradi e adesso siamo di nuovo in asse adesso per completezza invece vi faccio sentire l'audio normalizzato del mio universal audio sd1 che comunque è un dinamico però tanto per farvi capire come sono abituato ad avere la voce filtro disattivato adesso attivo il filtro sentite comunque si è tagliato un bel po' di low end dovuta alla prossimità 1 2 prova 1 2 prova universal audio sd1 ovviamente il suo pop filter è montato sentiamo che succede se batto un po' sul body molto molto meno rumble meno problemi quindi vedete che effettivamente questo microfono chiaramente per il colore che dà e per come è concepito ha sicuramente molto più rientro dovuto a rumori di boundaries quindi di eventuali colpi sullo stand di colpi sul pavimento su cui poggia e quindi chiaramente è un microfono molto molto incline a prendere tutto quello che potreste non volere ma allo stesso tempo sentite come il timbro già soltanto di un dinamico risulta essere molto più aperto mentre questo è un po' più chiuso un po' più ciccione un po' più colorato quindi comunque un microfono che effettivamente fa quello che dice ok avrete notato che il microfono effettivamente anche paragonato ad un dinamico flat suona molto scuro è per quello che appunto l'ho definito come una perfetta fusione tra un microfono a condensatore e un microfono a nastro perché ci sento un po' i pregi di tutti e due i microfoni e per esempio il microfono a nastro ha il pregio che è molto scuro molto naturale però allo stesso tempo ha poca output invece questo microfono essendo a condensatore quindi alimentato dalla Phantom a 48 volt è un microfono che è molto facile da amplificare anche con segnali di basso volume e quindi prende bene i parlati, sussurrati senza tirare fuori eccessivo rumore di fondo dal preamp che state utilizzando io con l'Odient mi ci sono trovato molto bene e le riprese che avete sentito nel video ve lo dico per correzzezza sono state fatte di là quindi con il mio warm audio 273 quindi con una sorta di clone NIV 1073 e non l'ho dovuto tirare tantissimo alla fine l'ho fatto giusto scaldare un po' per arrivare al livello però bene o male diciamo che non ho fatto niente di che zero equalizzazione e ripresa solo un qualcosa in post un po' di riverbero come avrete sentito e quindi l'ho trattato abbastanza tranquillamente ora guardando il microfono la cosa bella è che in dotazione abbiamo questo pop filter magnetico che basta appoggiarlo qui e si piazza da solo oltretutto come avete sentito nella prova funziona anche abbastanza bene e poi un banner chiamiamolo che possiamo attaccare con una calamita qui diciamo per avere un aspetto più iconico però diciamo che questo alliello del suono ha poca funzionalità mi è piaciuta molto la confezione che si presenta in questo modo basta premere qui e si alza il coperchio anche lui magnetico e qui avrete tutti gli spazi per poter alloggiare il microfono e i suoi fronzoli in maniera super sicura ora quindi il microfono mi è piaciuto molto devo ammettere che comunque è un microfono bello costoso ma se lo guardate da vicino e lo prendete in mano è molto pesante è costruito veramente bene si vede che comunque è una cosa fatta a mano cavo xlr di qualità connettore di qualità placato in oro quindi comunque effettivamente è un microfono che merita i soldi che costa è un microfono che comunque sono tentato a prendere perché devo dire che ha un carattere molto molto particolare l'ho provato anche con chitarre acustiche non ve lo faccio sentire perché la chitarra acustica ce l'ho suonata io e mi vergogno perché non sono bravissimo e la performance non darebbe gestizia a questo microfono e devo dire anche come un microfono di batteria veramente fa il suo lavoro comunque da quel tono retro in maniera molto più facile di come lo darebbe un microfono a nastro chiaramente ai suoi pregi perché essendo un microfono a condensatore la sua potenza e la sua sensibilità permettono comunque di tirare fuori timbri molto realistici e comunque è molto facile tirarci fuori un segnale che è ascoltabile anche su dispositivi piccoli proprio per il fatto che comunque rimane un microfono a condensatore e quindi con una certa definizione paragonato con un microfono a nastro il concetto anni 20 l'ho capito in questo microfono però c'è anche da dire che alla fine è un microfono anche abbastanza moderno perché ripeto la potenza ce l'ha la definizione ce l'ha anche se è un microfono scuro poi ha questo sistema molto bello di molle interno che dovrebbe fare da shock mount anche se effettivamente il tasto dolente di questo microfono sarà che però come avete visto prende i rumori rumble molto facilmente io per esempio che in studio ho un pavimento in abete con tante tavole in legno comunque qui basta che cammino entra tutto dentro questo microfono cosa che magari su un microfono a condensatore con il suo shock mount non succede quindi sicuramente il sistema di molle per quanto insomma fedele a come erano gli anni 20 comunque pensato per avere meno rumble possibile devo dire che secondo me si può anche un po' migliorare magari regolando meglio la sensibilità delle molle non so però ecco tutto sommato devo dire che è un prodotto che mi è piaciuto parecchio è chiaramente un microfono professionale che può essere molto bello quando vi ritrovate a fare una registrazione che deve avere un colore retro c'è poco da dire comunque l'avete sentito l'avete visto le funzioni sono queste io direi che comunque un giro di prova con questo microfono nella vita dovete farcelo perché comunque è molto molto interessante come Terra Audio con questo prodotto sia uscito fuori dal gregge perché comunque ripeto qui si parla sempre dei soliti microfoni o copiano gli SM7B della Shure oppure copiano l'87 sono usciti centinaia di condensatori tutti bellissimi in questi ultimi due anni però abbiamo capito che bene o male si va sempre a cercare di copiare o l'87 della Neumann o il 414 della AKG e così via ecco questo è un microfono che sicuramente per il discorso che è dietro è un microfono che si può considerare unico oltretutto la sua qualità di costruzione il suo peso la sua solidità mi fanno capire che questo è un microfono che difficilmente potrebbe dare problemi comunque è un carro armato c'è poco da fare oltretutto il cavo questo qui è massicissimo questo comunque è un connettore che costa questo è un cavo che si vede che costa tutto bello schermato e protetto con la stoffa a maglia comunque diciamo che la qualità è innegabile che ci sia e vabbè detto questo io ringrazio Milk Audio Store per avermelo mandato avermelo fatto provare mi hanno mandato anche altri prodotti di cui vi parlerò presto tutti molto top e io come al solito vi invito a mettere like al video iscrivervi al canale se non l'avete già fatto oltretutto date un'occhiata nei link in descrizione in cui troverete chiaramente le tracce in free download del video che vi ho fatto vedere all'inizio quindi del brano che ci ho registrato e poi per esempio in descrizione troverete un corso gratuito con un sacco di materiale per iniziare a mixare in maniera professionale e poi tutti i miei corsi il Patreon e tutto quello che vi serve nel caso vogliate iniziare a fare sul serio e detto questo io vi saluto direi che per oggi è tutto love